Ci siamo a Cantalupo in Sabina e siamo con il presidente della Proloco, Amleto è un caro amico, siamo tornati qui per promuovere tutto questo perché la gente deve sapere quello che c'è qui. Naturalmente abbiamo assaggiato già tutti i prodotti, quindi la gente deve sapere che oltre a Bellagette c'è anche roba buona da mangiare. Eh sì, diciamo che per noi questa è la prima esperienza, insieme all'amministrazione comunale e alle altre associazioni abbiamo pensato di fare questa prima festa dell'olio che non sarà l'unica e il prossimo anno promettiamo sarà ancora più bella e migliore, tempo permettendo perché purtroppo oggi è una giornata così abbiamo dovuto arrangiare in questa seconda location. Però sarà tutto al chiuso, quindi chi vuole partecipare può partecipare e siamo tutti bene. Io intanto ringrazio voi come partner ufficiali di questa manifestazione, staremo sempre più insieme, lo vogliamo dire a tutti che staremo sempre più insieme qui a Cantalupo per tutte le attività che si svolgeranno, ringrazio l'amministrazione, tutte le associazioni e voi in primo luogo che siete qui con noi. Grazie e mi raccomando.